Il programma d'eccezione per i bagnanti della marina piccola e per i turisti d'alto mare che stanno concedendosi una tappa a Capri. Gremiti gli scogli delle sirene e tutti guardano in su. Una fumata dà il via e una grande stella diurna si apre sotto l'aereo e poi un'altra nel più smagliante dei cieli. Bisogna tenerli d'occhio questi insoliti arcangeli che scendono a posarsi sull'acqua. Il primo lancio è da 500 metri, appena il tempo di evitare scogli e faraglioni. E questo che ora stanno raccogliendo è scampato per miracolo al Capitombolo sulla rupe. Di mano in mano si alza la quota dell'immenso salto, 1200 e poi 1800. Scendere nel giro di questo golfo è un librarsi in suggestiva e audace perplessità tra l'azzurro del cielo e quello del mare. Quando le imbarcazioni li tirano a bordo, i tuffatori dell'aria sembrano recuperare il peso, ritrovare gli attriti del vivere consueto. Finita l'impresa, il loro cuore non dà segno di aver palpitato più forte. Poi si hissano i paracadute come reti di una pesca incredibile.